Ciao a Vettest.it, The Grudge, l'ennesimo The Grudge, quanti sono stati fatti una marea, una marea, da Takashi Shimizu, gli originali giapponesi, a Takashi Shimizu, i remake americani sempre diretti da lui, in un momento in cui era veramente divertente vedere come un horror poteva essere giapponese, un horror poteva essere americano, partendo dal concetto che questi erano i film con gli spiriti vendicativi, bisognava capire le loro ragioni e poi The Grudge era uno degli spiriti più arrabbiati ed era uno degli spiriti anche meno capaci di perdonarti, se capivi le sue ragioni, e infatti è ancora qui con noi. Questo nuovo The Grudge che cos'è? È un reboot? Non si capisce, è un ricominciare, ed è di nuovo, c'è un pezzettino di Giappone, qualcuno dal Giappone parte, arriva negli Stati Uniti e porta qualcosa, non è il coronavirus, ma in tempi di coronavirus non si può non pensare al coronavirus, e questo è uno dei pochi film che esce in sala in un momento ancora in cui... quindi chi andrà a vedere questo film, pensando adesso mi sparo un horror, così non esco dai telegiornali, gli verrà un colpo. Perché? Perché dal Giappone arriva qualcuno e porta appunto un virus, porta un virus che è un fantasma, porta questo fantasma che è una casa. Questo è un film per agenti immobiliari, se sei un agente immobiliare vai fuori di testa, se sei un animoretti di Carodiario che ama andare a vedere le case vai fuori di testa lo stesso, perché ci si fissa su una casa, la vediamo da fuori, da dentro, in tutte le sue stanze, c'è anche un agente immobiliare infatti in questo film, e chi dal Giappone è arrivato negli Stati Uniti va in una casa e porta qualche cosa. I sacchetti della spazzatura respirano, l'avete visto anche nel manifesto del film, una mano inquietante non esce dalla vasca come Nightmare di Wes Craven, ma può uscire dalla nostra testa. Forse l'immagine più forte e bella, surrealista che Nicola Spesce ha creato. Allora, di nuovo non si capisce niente, ma si capisce che è un film fatto con un certo gusto, soprattutto in relazione al casting, quindi lo vedi perché c'è Andrea Riceboro, perché c'è Lynn Shai, perché c'è Frankie Faison, perché ci sono queste facce che di tanto cinema e serie televisive di valore, c'è John Cho, che era agente immobiliare, e Frankie Faison era Barney nel Silenzio degli Innocenti, tutte facce che voi riconoscerete, Lynn Shai è ovviamente una Scream Queen con Insidious, lei che nasceva con il cinema demenziale dei fratelli Farley, però era anche un po' horror in quei film, perché si divertivano a spingerla, a spingerla, a spingerla e a farla risultare spaventosamente comica. Ok, e quindi c'è un'idea, comunque, e poi c'è Andrea Riceboro, che forse è la protagonista, poi c'è Demian Bikir, che abbiamo visto in The Nun, anche lui ormai dentro gli horror, quindi sono tutte facce di questo genere e molti di loro avranno a che fare con questa casa, ok? La casa in una suburbia americana, con strade dove non passa mai nessuno, il parcheggio è facile da trovare, siamo in una suburbia e c'è questa villa, non è nemmeno una villetta schiera, è una villa isolata, però non troppo grande, come questa che vediamo in tanti film americani, si parcheggia, poi c'è, ci sono 30 metri di praticello e arrivi alla casa Dlindlon, è un film in cui si suona spesso il campanello, si bussa, e abbiamo visto questa signora dal Giappone arrivare negli Stati Uniti d'America e poi con dei piani temporali sfalsati si va avanti e indietro nel tempo, scopriremo perché c'è un cadavere carbonizzato, da dove viene e scopriremo chi è stato in questa casa, quante persone si sono date il cambio, non solo perché non gli piaceva la casa, ma perché succedevano dei fattaggi. Alla fine sono 90 minuti e riesci anche a vederlo, anche se non è niente di eccezionale. E anche i momenti sciocchi, i momenti di paura sono molto molto prevedibili. Però Andrea Riceboro è un'attrice meravigliosa, quindi è difficile non staccarle gli occhi di dosso e vai avanti nel tempo del film e di spaventuccio e spaventuccio potresti arrivare alla fine anche abbastanza in colume. È un film dove c'è un cane, ma non è indimenticabile, anzi è molto dimenticabile, si poteva dare più spazio al cane. Frank the Dog, interpretato da due cani, Bruno the Dog e Duke. Va bene. Poi ci sono tante battute, ma perché non vai a casa da tuo figlio, ma perché non vai a casa da tua moglie. Quindi ci sono tante battute di persone che dicono non dovresti stare in questa casa, vai in un'altra casa. E poi è un film dove gli agenti immobiliari vanno fuori di testa perché guardate questo salotto, guardate quanto è luminosa questa cucina. E poi è un film di case effettivamente, dove possiamo scegliere, possiamo capire dove preferiremmo andare a vivere. Ci sono belle inquadrature delle case, Nicolas, Nicolas Pesce, hai fatto un film di case, poi basta. Non succede praticamente più nient'altro, c'è anche Jackie Weaver, sì, c'è anche Jackie Weaver con la sua cucina così. Ecco, sarebbe stato più bello vedere Lynn Shai e Jackie Weaver prendersi ammazzate, oppure fare un dialogo, Jackie Weaver con la cucina così, Lynn Shai crea la voce un po' più così. Sarebbe stato bello vedere queste due signore confrontarsi, ma accade proprio per pochissimi secondi e non è l'obiettivo di Nicolas Pesce. Oh, il film è costato relativamente poco e l'ennesimo degraggio non è nemmeno più da capire dove siamo arrivati, perché ne hanno fatti tre in lingua inglese, ne hanno fatti tanti anche in Giappone. Takashi Shimizu andava di qua, andava di là. Nicolas Pesce a 30 anni, 30 anni? 30 anni, 30 eh, non 32, 33, a 30 anni ha fatto già tre film. Viene dal cinema indie, è bellissimo vedere la crescita di un regista che loro fomentano, premiano, gli danno i soldi. Però è un po' come Underwater di William Eubank, però lì lui veniva dal cinema indie, aveva fatto delle cose bellissime e William si è un po' sfrantecato con quel thriller, horror, adventure sotto il mare. Questi film costano di meno, questo è stato tra i 10-15 milioni di dollari di budget, Nicolas Pesce era felice come un pesce, perché Nicolas Pesce questo budget non ce l'ha mai avuto. E il film, complessivamente, ha fatto poco, eh, fino a questo momento, ma magari l'Italia non penso, soprattutto in questo periodo. Però, comunque, potrebbero rientrare, perché qualcosina a livello mondiale ha fatto, perché? Perché sono film che andremo sempre a vedere, abbiamo sempre visto e andremo sempre a vedere. E non escludo assolutamente che dopo The Eyes of My Mother e Piercing, questo è il primo film un po' ad alto budget di Nicolas, questo è uno che al quinto o sesto film lo possiamo trovare in dei posti interessanti. D'altro è stato già presentato al Sundance, è andato già a Sigis, quindi... Ed è una grande invidia per me, come critico italiano, che non ha l'horror nel suo paese, non ha registi horror, e non ha scuola horror, e non ha voglia di horror, nei produttori soprattutto, perché tra il pubblico c'è, perché questi film se no non verrebbero distribuiti in Italia. Aspetto sempre una generazione di gente felice. Quando vedo Nicolas Pesce penso, che bello Nicolas è, che fa questi horror, ha cominciato con gli horror piccoli, come Sam Raimi, e poi che ha a che fare con The Grudge, in chiave di produttore, e poi è andato avanti, e cresce, e a soli 30 anni ha fatto già 3 film. Gli unici che in Italia hanno questa energia e gli sento che fanno un film dopo l'altro e sono ancora giovani sono i fratelli, Fabio e Damiano di Innocenzo, che hanno 31 anni e hanno già il secondo lungometraggio. E che lungometraggio, miglior sceneggiatura a Berlino. E allora, lavoriamo anche noi per far lavorare sempre di più cineasti giovani, non possiamo farli arrivare a cominciare il loro primo film a 40 anni, devono cominciare a fare il loro primo film a 27, 28 anni, ovviamente non soli, appoggiati da produttori filmmaker che li proteggano, li stimolino e gli facciano compagnia, magari della loro età. Io sono convinto che prima di morire vedrò questo anche in Italia. E con Fabio e Damiano lo sto cominciando a vedere. The Grudge di Nicolas Pesce, non è niente eccezionale, non fa particolarmente paura, non si capisce quasi niente, il cane anche non funziona, ma il pesce, secondo me, può fare delle grandi evoluzioni nei prossimi anni. Quindi, e il film, tutto sommato, per noi appassionati di horror, si lascia anche abbastanza vedere. The Grudge di Nicolas Pesce, ciao Bettina, subscribe, bi pesce, ma soprattutto bi horror in una chiave di sistema e bi bed. Ciao! Ciao!